Salve amici del Centrometro Italiano. Tempo decisamente più stabile con l'avvicinarsi del weekend. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 14 luglio. Nuvolosità irregolare al mattino al nord, con locali piogge possibili tra Piemonte e Lombardia e sole prevalente al centro-sud. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta l'Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi, ed in serata e nottata invece nessuna variazione con tempo asciutto ed ampie schierite ovunque. Temperature minime in calo al nord e in aumento al sud, massime senza variazioni di rilievo. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.